Sono circa 130.000 gli studenti universitari che in Toscana possono usufruire della carta unica dello studente a cui è stato dedicato un portale web presentato dalla vicepresidente della regione Monica Barni con i rappresentanti dell'Università di Siena, Firenze e Pisa, dell'Università per gli stranieri di Siena e del diritto allo studio toscano. Nel portale vengono descritti tutti i servizi e le opportunità accessibili attraverso la carta, dalla mobilità ai servizi di tipo culturale. Quello più importante riguarda la cultura, lo spettacolo, i musei, che sarà un'offerta che è diffusa per tutto il nostro territorio ed è valida per tutti gli studenti universitari a prescindere dalla loro università di appartenenza. Ed è anche un riconoscimento dell'importanza del ricambio nel pubblico. Noi abbiamo bisogno di giovani che partecipano alle manifestazioni culturali. Sempre sul fronte culturale la carta permette di accedere a tutte le biblioteche, universitarie e non, alle mediateche e alle reti documentarie, ai musei. Garantisce anche sconti per i teatri di prosa, i balletti e i concerti, i cinema e le aree archeologiche. Siamo la prima regione in cui gli studenti delle tre università generaliste, di università pestanieri e delle tre scuole di eccellenza superiore hanno un'unica carta, che è la carta dello studente della Toscana. Insomma, mi sembra un bel segnale di integrazione e di sinergia. Presente alla conferenza stampa anche il direttore del Teatro Metastasio di Prato, Franco Di Polito, e il sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Cristiano Chiarò. Noi metteremo a disposizione un po' di spettacoli dedicati a questa importante iniziativa, sia di lirica, di sinfonica e altri spettacoli che facciamo appositamente per il pubblico giovanile. La carta dello studente è inserita nel progetto Giovanni Sì, finalizzato all'autonomia dei giovani.